Protagonisti dell'incontro Le Istituzioni e la Costituzione di fronte alle nuove generazioni, gli studenti delle classi quinte e degli istituti Pinchetti di Tirano, Saraceno Rome Gialli di Morbegno e Piazzi Perpenti di Sondrio. A loro il compito di recepire i principi sui quali si fondano i pilastri della Repubblica Italiana e la volontà di riempire di significato la nostra Costituzione. La Costituzione ci rappresenta in tutto e per tutto, ci dà quel senso di appartenenza, di solidarietà che ci deve accumulare come comunità, come cittadini che viviamo in un unico territorio. Per me la Costituzione è sicuramente un documento importante e rappresenta il nostro Stato e anche se oggi diciamo che non è così ascoltata e non si fa molta attenzione ad essa e ai suoi principi più importanti, che forse dovrebbero essere ripresi e rimessi al primo posto. I giovani cittadini non sono giunti impreparati all'importante appuntamento con i rappresentanti delle istituzioni, molto lo studio che ha permesso ai ragazzi di affrontare, con una preparazione invidiabile, le difficili tematiche trattate nella mattinata di oggi. A scuola abbiamo fatto questo lavoro riguardo alla Costituzione, ci hanno fatto descrivere quali valori per noi fossero importanti e siamo riusciti a collegarli alla Costituzione, quindi riuscire a capire che la Costituzione in realtà non è una cosa surreale, ma è legata a ciò che per noi è un affetto, come ad esempio la famiglia, quindi in alcuni articoli si parla della famiglia, della salute, dell'uguaglianza formale e sostanziale, del lavoro, che tutti noi, come dice il primo articolo, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Secondo me la Costituzione è molto importante per il nostro ordinamento, perché comunque ha segnato un passaggio importante nella nostra storia nazionale, infatti siamo passati da una Costituzione che non era proprio una Costituzione dello Statuto Albertino, a una Costituzione comunque rigida, che non permette a eventuali dittature di entrare in vigore nel nostro paese. Un incontro, quello promosso dal tavolo di Camaldo, gli fortemente voluto dagli studenti, che ha permesso di educare alla cittadinanza attiva coloro i quali verranno chiamati, tra pochi anni, a guidare il nostro paese.